Buongiorno a tutti, sono Antonio De Carolis, presente al Club Dirigenti Vendita e Marketing dell'Unione di Stato di Torino. Oggi parleremo per qualche secondo del SalesCult, un percorso di formazione che noi portiamo avanti insieme agli amici di Skillab da moltissimo tempo. È un percorso di formazione di tipo avanzato, che cosa intendo dire? Offre la possibilità, e d'anno per anno, vi dico la verità, cambia perché cerchiamo sempre di essere aggiornati all'ultimo momento, dal secondo che siamo nell'era dell'online e quindi anche la formazione deve essere fatta in aggiornamenti temporali molto molto rapidi, offre la possibilità di confrontarsi con docenti, con manager e anche con colleghi di realtà diverse che in realtà appunto offrono spunti, riflessioni, confronti fra persone che fanno lo stesso mestiere. Ecco, credo che uno dei tanti valori sicuramente che il nostro SalesCult offre è proprio questo, avere un confronto con chi fa il nostro lavoro, quindi un qualcosa di veramente pratico che viene preso come punto di partenza e di lì evolve in quella formazione che poi vuole essere né più né meno che un momento di sintesi e approfondimento di quanto già facciamo per capire come possiamo perfezionarlo per arrivare a quella che noi speriamo essere, la perfezione in questo mondo che necessita di professionisti. Per cui cosa dire? Benvenuti a tutti al nostro SalesCult. È veramente un momento di crescita per tutti, sia per chi gestisce la formazione sia per chi partecipa perché è un protagonista. A presto a vedervi.